Sono iniziati lo scorso 17 aprile i lavori di restauro che daranno ai visitatori l'opportunità di conoscere e ammirare tanti tesori artistici e architettonici custoditi all'interno della chiesa di San Girolamo alla Certosa, complesso monastico certosino risalente alla prima metà del 1300. Oltre alla cappella di San Girolamo della Certosa, alla messa in sicurezza del campanile grande della chiesa e il restauro della cappella al piano terra del campanile stesso, vi è anche il restauro della tela del Bibiena, l'ascensione di Cristo, che già nel 2012 ebbe un primo intervento ma solo per metterlo in sicurezza in quanto i tarli, soprattutto nella parte superiore della tela, ne avevano messo a repentaglio la sicurezza. Proseguono inoltre i lavori all'interno della chiesa. Nel 2009 sono state restaurate le tre cappelle laterali ma non è stato possibile, a causa della mancanza di fondi, intervenire all'interno di quella di San Girolamo. Alla fine del 2017, grazie al contributo della Fondazione Carisbo, è stato avviato il ripristino del pavimento, un intervento che ha permesso anche di conoscere meglio alcuni aspetti della storia di questo edificio. Abbiamo anche nell'occasione potuto scoprire quello che era originariamente sotto con le fondazioni, gli archi di fondazione, con un livello di pavimento di una cappella probabilmente preesistente a 20 centimetri sotto l'attuale posizione e anche individuare un po' meglio la posizione della tomba del Moretti. I lavori di restauro e messa in sicurezza coinvolgeranno anche il campanile grande della chiesa realizzato tra il 1606 e il 1611 dall'architetto Tommaso Martelli. Ci troviamo al piano terra del campanile, il campanile grande di San Girolamo della Certosa dove saranno fatti fra poco tempo alcuni lavori di restauro e soprattutto di messa in sicurezza del campanile stesso con la creazione di alcune scale alla marinara in modo particolare dalla cella campanaria al terrazzo del campanile che si trova a circa 40 metri di altezza mentre il campanile poi su una guglia ottagonale termina a circa 50 metri di altezza. e la mia intenzione è di poter portare, data la bellezza che si gode dalla sommità del campanile poterci portare i fedeli o i visitatori che vorranno approfittando anche di qualche caratteristica che è nel campanile salendo in modo particolare un meccanismo di orologio. Al campanile si accede attraverso nove rampe di scale di cui soltanto una è muratura per un totale di 170 gradini. La terrazza offre una vista insolita sulla città e lungo il tragitto si potranno ammirare opere finora sottratti agli occhi dei visitatori come il meccanismo dell'orologio risalente al 1613. Il campanile non sarà il solo a restituire tesori sconosciuti ai più altrettanto infatti si può dire della cappella al pian terreno della torre campanaria. In questa ex cappella vennero ricoverati durante la soppressione napoleonica alcune opere che provenivano dalle chiese bolognesi in modo particolare quella dei cappuccini e dei francescani di vecchia osservanza. La cappella, come ricordo una lapide all'esterno della chiesa, ha ospitato anche la Madonna di San Luca. L'effigia della Vergine è stata trasportata qui durante la Seconda Guerra Mondiale per essere tenuta al riparo dai bombardamenti. In attesa che i lavori vengano portati a termine è possibile scoprire la chiesa di San Girolamo attraverso la nuova audioguida realizzata da Alberto Martini. Un'audioguida un po' particolare perché più che audioguida io dico che è un racconto guida. Nel senso che chi guida il visitatore nella visita del luogo è uno dei personaggi che hanno vissuto in questo luogo. In particolare è il beato Niccolò Albergati che nel 300-400 fu il priore della Certosa. Questa specie di fantasma che esce dal passato si fa aiutare dai personaggi che sono nelle opere, nei quadri, nelle sculture e accompagna in diversi capitoli il visitatore attraverso questo luogo. Per utilizzare l'audioguida basta uno smartphone. Il viaggio fra i tesori artistici e architettonici di San Girolamo può essere compiuto anche da casa attraverso il sito Panopticon di Bologna curato dallo stesso Martini.